Buongiorno, grazie. Allora io cercherò di, 20 minuti, mezz'ora, come dire, darvi un'opinione, anche un quadro un po' sulla questione delle grandi aree metropolitane, soprattutto visto dal punto di vista ambientale, che è il tema su cui ho più lavorato in questi anni, sia come professionista, sia come docente ricercatore, anche come direttore di un istituto di ricerca della Tongi University, che si occupa del futuro delle città. Il futuro delle città è un tema al centro dell'attenzione in tutto il mondo, le città sono oggi, le grandi metropoli soprattutto, sono oggi luogo dove si concentrano i nodi delle reti globali, sono in concorrenza tra di loro, le città sono anche oggi chiamate ad alcune sfide fondamentali. Una di queste è certamente la sfida ambientale, che non è solamente una sfida che va vista dal punto di vista di quella che una volta si chiamava, diciamo, l'ecologia legata alla possibilità di aumentare le superfici vegetali. La sfida ambientale è una sfida molto più ampia. Devo dire che quello che succede, quello che è successo, quello che abbiamo attorno a noi e vediamo succedere in queste ultime settimane è purtroppo una conferma, questa è The Guardian che parla delle disastrosi fenomeni meteorologici legati anche all'inundazione in Australia. In Australia succede però che nello stesso momento ci sia stato quest'anno una aridità e una desertificazione di alcuni territori che ha creato e ha determinato una moria di intere famiglie di specie legate all'inondazione. Sono gli anni questi in cui Chicago ha il punto massimo di temperature, diciamo, che scendono invece verso il basso e questo è a sua volta determinato dagli scompensi climatici assolutamente incontrollabili della meteorologia legata sostanzialmente a un mutamento delle masse di vapore che salgono dagli oceani che è a sua volta determinato da un continuo crescente incontrollato aumento della temperatura media del pianeta. Ma anche fenomeni legati alla polluzione, dell'inquinamento, questo è Bangkok, Bangkok in queste ultime settimane ha raggiunto credo il tasso massimo di inquinamento e di respirazione, superando di gran lunga anche le città cinesi che peraltro hanno cominciato a occuparsi seriamente di questo tema. Se però vorremmo cercare di prendere la questione ambientale in un modo più diciamo comprensivo, integrale, noi dovremmo cominciare a partire da una specie di paradosso, cioè il paradosso è che in realtà le città del mondo che vedete in questa immagine, se noi volessimo concentrarle in un'unica parte del pianeta, immaginate di avere un'immensa città fatta da tutte le città del mondo, non copriremo più del 3-4% della superficie delle terre emerse del pianeta. Ma questo 3% ha una potenza di fuoco formidabile, c'è la nella capacità di sviluppo intellettuale, scientifico, commerciale, ce l'ha nella capacità di attrazione di masse sempre più importanti di individui, ce l'ha anche dal punto di vista però del consumo delle risorse e, lo vedete, il 75% nella creazione delle cause principali del cambiamento climatico, cioè le città producono il 75% della CO2 presente nell'atmosfera, che è quella che poi determina i grandi fenomeni legati al peggioramento della qualità della vita della specie umana sul pianeta, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello di oceani, processi di inondazione. E quindi il tema della crescita delle città è in qualche modo inevitabilmente legato al grande tema del cambiamento climatico. Quello che possiamo dire oggi è che in un certo senso non possiamo non guardare con grande attenzione o grande preoccupazione, il video non parte, qui lo vedo ma non so perché non gira sullo schermo, al fatto che le città sono in qualche modo così ridotte sul piano spaziale, sul piano della concentrazione, però insieme hanno oggi una rete di sostanzialmente infrastrutture materiali e immateriali, non solamente le rete dei satelliti ma oggi il sistema dei droni copre spazi limitati ma sempre più estesi di controllo sulla superficie del pianeta. Per cui quello che succede oggi è che di fatto a fronte di questo 3% di superficie veramente occupata dalla dimensione fisica della città abbiamo in realtà un'estensione di quella che si chiama la tecnosfera, cioè le reti globali complessive di controllo sul pianeta che copre quasi ogni più piccola superficie del pianeta Terra. Quindi oggi il tema della città, il tema dell'area metropolitana, è un tema che va guardato da diverse prospettive. Le città crescono, da un punto di vista fisico sono ancora come dire un fenomeno relativamente importante rispetto alle superfici complessive, lo sono invece in maniera assolutamente importante dal punto di vista degli effetti sia positivi sullo sviluppo economico, culturale e commerciale delle popolazioni delle specie umane, sia naturalmente negli effetti negativi che questa l'antropizzazione determina sul pianeta, effetti negativi che sono moltiplicati dalla estensione delle reti, che non è semplicemente la presenza delle città ma è la presenza dei nodi, la presenza del sistema delle reti, delle infrastrutture più o meno leggere, più o meno capace di atterrare sul territorio che le città hanno. In sostanza le città sono le cause prime del cambiamento climatico e su questo ormai non ci sono più dubbi, ma le città sono anche le vittime prime del cambiamento climatico. Proprio il Guardian qualche settimana fa raccontava di come ci sono circa 50 milioni di cittadini che nei prossimi anni soffreranno rischi di inondazione dovuti all'innalzamento del livello degli oceani. Se ne parla New York, se ne parla Shanghai, se ne parla Tokyo, se ne parla in molte città e grandi metropoli costiere, l'alzamento degli oceani è uno dei temi più preoccupanti. Il tema è quindi città come causa, città come vittime, quali sono le possibilità che le città diventino protagonisti di una grande campagna e di un grande progetto collettivo per cercare di ridurre gli effetti del cambiamento climatico, di rallentare il cambiamento climatico o per meglio dire ancora per invertire se possibile il cambiamento climatico, che ricordo bene non è solo un processo ambientale ma è un processo che ha degli effetti economici sullo sviluppo economico di intere parti del mondo e che ha dei diretti effetti sui processi di migrazione. Si calcolano nel 2050 quasi 200 milioni di profughi dovuti a processi di desertificazione. Questo significa che i numeri con cui noi oggi guardiamo il tema dell'immigrazione dalla Nord Africa al Sud Europa sono semplicemente ridicoli e o ci prepariamo a dei flussi migratori assolutamente più rilevanti, che significa una grande visione, un grande progetto di integrazione inevitabilmente d'accoglienza strutturata, oppure rischiamo di essere in qualche modo soffocati da una onda inarrestabile. Le città se ne occupano, queste sono alcune delle reti principali che stanno occupandosi del tema ambientale e del cambiamento climatico. Quando dico le città se ne occupano, lo dico a livello più alto. 100 Resilient City è una rete fondamentale che è nata intorno all'esperienza di Bloomberg a New York, come anche Sea Forty, di cui Milano per esempio fa parte. Sono reti di città che studiano come condividere progetti per invertire il cambiamento climatico. Molto più dei governi, molto più degli stati sono oggi le reti di città che cercano di, come dire appunto, costruire un sistema di collaborazioni. Una di queste reti è naturalmente la FAO, con cui abbiamo promosso a Mantua, tra l'altro qualche mese fa, il primo forum internazionale sulla protestazione urbana. E un'altra di queste reti di cui voglio brevemente parlarvi è il Commonwealth, perché rappresenta in un certo senso nella geopolitica internazionale una sorta di contrapunto alla Brexit. Mentre l'Inghilterra si isola dall'Europa, il Commonwealth, che rappresenta la storia antica dell'impero britannico, crea una rete tra i suoi 52 membri, che sono una campionatura straordinaria della geografia del pianeta, per fare un'operazione fortissima sul cambiamento climatico legata a una visione integrale. Cosa vuol dire una visione integrale? Vuol dire che convinzione oggi dei Patissia Scotla, anche tra l'altro sarà il 10 maggio intrinale con noi, per poter davvero segnare dei passi nell'inversione del cambiamento climatico, significa attivare insieme tutte le politiche possibili. Non basta più occuparsi delle energie rinnovabili, solo, fondamentale naturalmente, non basta più occuparsi del tema del verde, solo, non basta più occuparsi del tema del riscaldamento dei pianeti. Bisogna cercare di mettere in campo tutte le strategie. Cibo, dieta, temi naturalmente relativi all'emissione di gas serra, possibilità di intervenire sui sistemi di riduzione dei consumi energetici. C'è oggi un campo vastissimo che va colto nel suo insieme. Questo atteggiamento olistico è quello che guida anche le politiche sulla forestazione. Cosa vuol dire forestazione? Vuol dire soprattutto approfittare di quello che gli alberi fanno. Gli alberi, come potete immaginare, sono una presenza, come dire, discreta, ma fondamentale per la vita del pianeta. Preesistono a noi da millenni e probabilmente sopravviveranno, anzi sicuramente sopravviveranno, ai rischi di estensione della nostra specie. Gli alberi occupano una superficie del pianeta che è circa del 30%, città 3%, superficie terremersi alberi del 30%. Ma quello che gli alberi fanno è fondamentale perché mentre le città producono, dicevo prima, il 75% del CO2, gli alberi insieme agli oceani ne assorbano i boschi, le foreste, il 40%, altrettanti agli oceani, quindi hanno un ruolo fondamentale nel sapere compensare gli effetti sul cambiamento climatico e sull'ambiente delle città. Dicevo, reti di città, vi faccio vedere alcuni delle grandi, come dire, esempi migliori positivi. Ci sono città, pensate a Canberra, dove per esempio il tema della forestazione è stato affrontato con un'attenzione grandissima alla biodiversità. Ci sono città in Cina dove si lavora sulla costruzione di parchi e di boschi attorno alle periferie. Parigi ha lavorato moltissimo sul tema dei tetti verdi e dei parchi all'interno delle città. Singapore è una città storica dove c'è una grande risorsa ambientale naturale, però c'è un studio sul rapporto tra architettura e specie digitali viventi da tempo in atto. Mosca sta cambiando l'intera parte del centro, distendendo a parco zone abbandonate. Berlino ha fatto un'operazione sugli orti urbani, sui community gardens, che è interessante perché è riuscita a costruire una delle reti locali di grande, come dire, spinta, dinamicità anche sul piano economico. Ci sono sistemi di piccole imprese e start-up che lavorano con grande forza sul tema dell'agricoltura urbana. E così altre città come Medellin in Colombia, come Barcellona, che ha studiato anche lì un bosco periurbano e una serie di ringurbani, o Toronto o Bangkok, come vi dicevo che ha oggi da affrontare un tema enorme come è quello della polluzione. Vi dicevo della World Forum on Urban Forest che ci è appena stata a Mantua e che avrà una continuità nei prossimi anni, con la FAO come protagonista del Politecnico di Milano. Questo è un appello che abbiamo fatto qualche mese fa per raccontare come, a partire dall'esperienza milanese di un piccolo progetto come quello del Bosco Verticale, però sia fondamentale oggi cercare di chiamare a raccolta tutti il mondo della conoscenza scientifica, tecnologica, di campi molto diversi, perché andiamo dalla botanica all'etologia, naturalmente all'economia urbana, all'agricoltura, alle scienze agricole, che hanno oggi, ripeto, un opportuno campo di sperimentazione per andare verso una scelta che sia una scelta consapevole e che in qualche modo attivi le reti urbane a tutti i livelli. Il convegno di Mantua è stato un punto molto interessante, c'erano più di 92 paesi del mondo con una grande presenza delle realtà urbane e devo dire che il scambio, come succede spesso in questi casi, di esperienze, di best practices, anche di problemi, di resistenze, di ostacoli è stato molto forte e ha determinato una serie di convinzioni diffuse, tra cui il fatto di cominciare a partire con una serie di strategie, sono circa 7-8 strategie principali che possono trasformare il tema della forestazione urbana in un progetto, una serie di progetti molto concreti, che significa costruire boschi periurbani, aumentare le aree verdi all'interno delle città, cercare di lavorare sui tetti, sulle coperture per rendere vegetali biologici, lavorare su dei boschi verticali, edifici verdi nelle facciate, tutte insieme queste cose possono avere una funzione molto importante. Vi faccio però vedere alcune altre esperienze che abbiamo seguito di recente, una riguarda una città come Tirana, Tirana è una città nata e cresciuta nel cemento e nell'asfalto e che però negli ultimi anni, grazie a un masterplan, dove il tema della forestazione è diventato un tema importante, sta cambiando completamente in natura, più di 400.000 alberi impiantati attorno e dentro la città e questo ha già cominciato a cambiare le condizioni climatiche, per esempio una delle grandi questioni è l'effetto isola del calore urbano, cioè il fatto che le città tendono ad avere una temperatura media molto più alta, 3-4 gradi rispetto alle aree esterne e questa cosa ha un effetto diretto anche sui temi legati all'inquinamento dell'area. Quindi il lavoro che abbiamo fatto su Tirana è stato un lavoro che comincia a dare degli effetti, a mio parere, rilevanti e che racconta proprio di come oggi il rapporto tra città e campagna sia un rapporto diverso da quello a cui siamo abituati a pensare. Questo è un famoso affresco sul buon governo, un'allegoria di Lorenzetti, pensate, 1338, quindi siamo lontanissimi nel tempo. Ecco, io credo che un'idea oggi di una situazione metropolitana in cui natura e sfera urbana non sono più separati da una linea netta, ma tendono in qualche modo a compenetrarsi, tendono ad avere quindi un effetto di osmosi. avremo metropoli parco nel futuro, io mi auguro, cioè metropoli città che tendono ad ospitare al loro interno sempre più superfici vegetali, superfici biologiche. Un lavoro analogo lo stiamo facendo a Macao in Cina, questo è un altro caso dall'altra parte del mondo dove a partire anche in questo caso da una grande attenzione alle condizioni meteorologiche, ai rischi di inondazione, all'aumento continuo delle temperature, fenomeni di accelerazione, si è fatto un'operazione sul tema dei trasporti pubblici creando una serie di linee di trasporto pubblico che sono allo stesso tempo linee di connessione per un sistema di trasporto idrico, quindi sistema delle acque, linea di raccolta dei rifiuti e un sistema invece di spazi verdi pedonali. Questo tema di infrastrutture complesse che sono insieme capaci di svolgere funzioni relative anche a un'idea di economia circolare, ma hanno anche un apporto sul piano del verde urbano, è uno dei grandi temi. Ma se nelle città dell'Occidente avanzato il tema della forestazione è sostanzialmente aumentare le superfici verdi, ci sono parti del mondo dove bisogna ancora continuare a costruire nuove città. Pensate alla Cina, pensate ai paesi africani, pensate a Sud America. In questi anni un'altra grande questione, questa è la COP21 a Parigi, è quella della, come si possono immaginare, città che nascono da subito con una filosofia diversa in cui la natura è un elemento integrante dell'architettura. Questa è una città in Cina che abbiamo progettato e in cui stiamo seguendo la costruzione. È una città che ha una qualità particolare, a parte che avere una serie di sistemi legati anche alle tecnologie molto avanzate, ma è una città che sostanzialmente ha gli edifici di ogni natura, funzione, dimensione con il verde direttamente a connessione sulle facciate. Ancora più ardita è un'altra esperienza che stiamo facendo in alcuni paesi del Nord Africa, dove si cerca di costruire delle città foresta, anche lì legate a una necessità demografica oggettiva, ma usando il verde come elemento fondamentale, che significa, come potete capire, lavorare con grandissima attenzione sul ciclo delle acque soprattutto e sulla possibilità di avere dei spazi che siano spazi che hanno un grande livello di ombraggiatura, ma che non perdono per questo tutte le altre valenze che deve avere una città oggi. Quindi una città che abbia un sistema di mixite urbana dal punto di vista delle diverse popolazioni che la abitano, una città con un altissimo livello tecnologico, dove per esempio gran parte dei sistemi di distribuzione delle merci ormai avviene attraverso dei droni, in alcuni casi, quindi cambiano anche le gerarchie sugli accessi e la mobilità urbana, una città inclusiva, una città accessibile e una città policentrica. Tutto questo per dire che poi uno degli impegni principali da cui forse è nata questa nostra attenzione è stata quella di creare a Milano una sorta di prototipo. È un prototipo che conoscete, che ha avuto come dire una storia importante di tentativi, di sperimentazioni, è stato costruito di fatto finito nel 2014 anche se i primi alberi sono lì dal 2012, quindi sono ormai passati quasi sette anni e sette anni è già un tempo importante per cui una sperimentazione come questa può cominciare a offrire dei risultati considerati utili anche per la tecnologia, la scienza, per la ricerca. Abbiamo lavorato sul Bosco Verticale con diversi utili di ricerca un po' da tutto il mondo e oggi cominciamo a avere anche qualche risultato interessante proprio dal punto di vista della capacità che ha questo ecosistema di rispondere ad alcune questioni ambientali, assorbimento CO2, riduzione delle polveri sottili al traffico, riduzione dei consumi energetici, elemento fondamentale, capacità di ridurre la temperatura media del contesto, aumento della biodiversità delle altre specie viventi, penso in particolar modo ai volatili e costi sulla sanità. Questo è un punto su cui poco ancora si sa, sono stato pochi giorni fa un convegno internazionale di pneumologia in cui il tema della presenza del verde nelle città non è solo visto come grande fattore di pulizia, di pulizionamento dell'aria, ma c'è un effetto su alcune altre grandi, come dire, grandi, tra virgolette, malattie tipiche della condizione metropolitana, penso ai fenomeni di depressione, assolutamente rilevanti dal punto di vista della riduzione dei costi, dei costi clinici. Quindi la questione della forestazione urbana è una questione, come dire, importante che abbiamo cercato di esplorare, verificare, confermare anche da diversi punti di vista. Siamo attivi oggi in diverse parti del mondo con progetti analoghi, ve ne faccio vedere qualcuno. Ovviamente in ogni situazione diversa noi partiamo con una grande attenzione alle condizioni climatiche e dunque alla biodiversità delle specie vegetali utilizzabili e dunque all'architettura. Arriviamo all'architettura dopo aver definito quali sono in primo luogo le tipologie di alberi. Questo significa che il nostro lavoro è un lavoro diciamo così orizzontale di rete che unisce sistemi di impresa diversa che vanno appunto dalla piantumazione, alla floricultura, alla botanica, al settore immobiliare, al settore degli arredi, al settori legati all'economia circolare e soprattutto relative all'uso del legno. Abbiamo lavorato molto sulla questione dei costi, poi vi farò vedere un esempio molto interessante, naturalmente l'esempio di Milano è un esempio di un edificio che ha una destinazione per famiglia a reddito medio-alto, anche se all'inizio era meno alto di quello che oggi viene richiesto dal costo degli affitti e delle vendite. Siamo però arrivati attraverso la prefabbricazione a una serie di sperimentazioni, a ridurre notevolmente, a poter dire che noi oggi siamo in grado di offrire una situazione di vita, di prossimità con la natura ad altezza e a densità urbane a costi accessibili a tutti. Questo è un progetto a Lausanna, questo è un progetto che è in costruzione in questo momento a Utrecht, è un progetto molto ricco perché è commercio, terziario e residenze insieme, quindi con un programma molto complesso. Questo è forse il progetto più ambizioso, è un progetto in costruzione di dirizze sociali. 1.250 euro al metro quadro, tutto affitto ed è un bosco verticale. Questo è, secondo me, il punto più alto a cui siamo fino ad oggi arrivati e che dice come la questione ambientale relativa all'architettura possa diventare anche una questione che aiuta a risolvere i grandi problemi della accessibilità e della povertà nelle aree metropolitane. Questo è un progetto a Parigi dove l'elemento fondamentale è l'uso del legno, questo è un progetto a New York, dove l'aspetto fondamentale naturalmente anche qui è la possibilità di avere diverse tipologie di verde, ma vi vorrei solo far ragionare sul fatto che se prendessimo in esame il numero degli alberi presenti in Central Park e il numero di alberi che possono essere presenti in un edificio verticale, come quelli che abbiamo costruito a Milano, si sta costruendo, anche altri architetti, altri studi stanno facendo cose eccellenti, non abbiamo mai messo un copyright su questo progetto perché anzi ci sembra giusto che ci sia chi lo fa meglio di noi, come già sta succedendo, ma la cosa straordinaria di questi edifici è che hanno una capacità di concentrazione di superfici vegetali e biologiche equivalenti ad enorme dimensioni orizzontali. Il Bosco di Milano equivale a circa 3 ettari, 30.000 metri quadri di un bosco, concentrato però in un fazzoletto di 1.000 metri quadri. Un piccolo lavoro che abbiamo fatto è stato di immaginare che se si potesse costruire un equivalente di Central Park in New York basterebbero 15-20 edifici di questo tipo. Ma naturalmente la vera sfida sono le città dove l'inquinamento atmosferico è drammatico, penso alla Cina, stiamo in Cina soprattutto in alcune aree, voi sapete che attorno a Pechino oggi c'è una megalopoli di 103 milioni di abitanti, creata da processi migratori incontrollati che hanno determinato una continua urbanizzazione delle periferie che si sono saldate tra di loro senza trasporti, senza spesso servizi al cittadino, creando fenomeni anche di inquinamento allucinante. Questo è Nanchino dove sta nascendo il primo progetto di verde verticale cinese ed è un progetto che io credo sarà ultimato all'inizio del 2020 e che avrà una grande ambizione perché sarà una prima dimostrazione che anche in un paese come la Cina si possono fare operazioni importanti nel pensare al rapporto tra l'architettura urbana e la natura vivente, che per noi non è mai semplicemente un elemento decorativo ma è un elemento fondamentale del paesaggio. Vorrei concludere con alcune riflessioni su Milano, non perché siamo Milano ma perché Milano rappresenta oggi un punto di riferimento per il nostro paese sulle questioni ambientali per quanto Milano venga da una storia che è l'opposto. Milano è una città grigia, una città industriale, una città inquinata, una città difficile, fino a qualche anno fa era una città a cui era difficile accostare un'alta qualità della vita quotidiana. Le cose sono cambiate, sono cambiate grazie a una formidabile convergenza di interessi e progetti che ha visto in Expo una sorta di catalizzatore, forse Expo non in sé come progetto ma come catalizzatore è stato però un passaggio straordinario e la densità formidabile di eccellenze che Milano già aveva e che oggi è molto aumentata si è trovata a correre tutti insieme nella stessa direzione portando a termine progetti che erano partiti vent'anni prima, due anni prima, qualche mese prima e dando il segno di un'accelerazione spettacolare. Milano ha visto negli ultimi 5-6 anni accadere cose che di solito una città vede accadere in 10, 15, 20 anni. La tema ambientale resta però un tema aperto. Milano ancora oggi è una città con una presenza del verde molto limitata. Quella che si dice è tree canopy, che sostanzialmente è l'estensione delle superfici vegetalizzate, delle fronde, degli alberi, degli lusti, ci fa capire come siamo ancora molto indietro. Il progetto di che Milano ha lanciato, l'ha lanciato il Comune in collaborazione con la Regione, con i grandi parchi urbani, parco urbano, parco sud, con l'area metropolitana, è quello di piantare 3 milioni di alberi nei prossimi 10 anni. Ve lo faccio vedere perché è un progetto che ha, come dire, una grande risvolto anche sul piano di alcuni sistemi di economia circolare. Quello del legno innanzitutto, l'Italia è un paese di foreste, non abbiamo mai capito fino in fondo che questa presenza è anche una potenziale risorsa straordinaria. Un sistema di filiere legate all'economia circolare del legno, che lavora non solamente sul sistema degli arredi, ma anche sul sistema dell'edilizia, che come abbiamo mostrato oggi è una delle attività che possono usare in modo più proficuo il legno, potrebbe essere un elemento di svolta a livello di grandi contesti territoriali. E questo dovrebbe succedere, io mi auguro succeda presto anche per la nostra regione, anche per il nostro territorio. 3 milioni di alberi vuol dire cambiare la qualità dell'aria urbana in maniera sostanziale, drastica, vuol dire contribuire fortemente alla riduzione degli effetti di CO2 e ridurre di 2 gradi almeno il calore urbano. Non sono cose impossibili, come vedete qui, se ognuno dei 174 comuni della città metropolitana di Milano piantasse 2 mila nuovi alberi ogni anno, in 10 anni si avrebbero 3 milioni, se per ogni nuovo nato piantassimo un albero avremmo circa 300 mila nuovi alberi, ma se ogni abitante della regione metropolitana piantasse un albero nei prossimi 10 anni avremmo 3 milioni di nuovi alberi. Quindi ci sono come dire progetti ambiziosi, ricordo che New York ha appena lanciato il progetto di piantare. Stiamo andando, avremo presto un incontro con New York proprio sul tema della piantumazione, New York pianterà un milione di nuovi alberi a Manhattan con lo stesso tipo di atteggiamento e di visione. E concludo facendo riferimento forse al più grande progetto che oggi è aperto sull'area milanese che è quello degli scalimerci. Sono sette scalimerci, in larghissima parte rismessi e abbandonati, che l'amministrazione comunale e sistemi urbani dei ferrovi dello Stato hanno deciso di rivalorizzare. Abbiamo fatto una masterplan, una proposta di masterplan. Oggi in realtà il progetto è partito su un primo di questi scali, che è lo Scalo Farini, dove c'è in corso un concorso che avrà esiti a breve. Vi faccio vedere un po' l'idea generale. L'idea generale è quella di una fortissima rinaturalizzazione di tutta la parte centrale di questi scalimerci, che uniti insieme sono di fatto come un fiume, un fiume continuo che attraversa la città nelle sue fasce più esterne, quindi ha diretto contatto con le zone più di disagio abitativo e ambientale di Milano e che sui suoi lati ha invece un sistema di edifici alti e verdi, se possibile. Questa è l'immagine del fiume in fasi diverse e questa specie di capacità che potrebbe avere questo sistema di aree verdi bordate da sistemi architettonici importanti, soprattutto rivolte ai giovani. Io credo che la grande sfida di Milano oggi sia quella di ospitare a prezzi ragionevoli giovani ricercatori, giovani imprenditori, giovani studenti che vengono e spesso non hanno la possibilità di restare. Questo è quello che rende ancora Milano oggi poco competitiva con città, grandi metropoli e grandi città globali, pensate a Berlino o pensate anche in alcuni casi a Barcellona. È un progetto che occupa una superficie molto ampia, stiamo parlando di quasi 40 chilometri e che da un punto di vista del dimensionamento è superiore perfino all'area di Expo, ci sono più di 1.600.000 metri quadri di aree potenzialmente recuperabili a natura verde e a un'architettura di nuova generazione. Quindi è un progetto molto ambizioso che io mi auguro parta presto e che potrebbe davvero cambiare un po' il senso anche di una città come Milano, cioè riportare dentro la città questa idea di un grande prato per bambini, un grande pratone per bambini, dove i bambini possano essere liberi, seppur sotto un controllo, una sicura tranquillità e sicurezza, di poter avere un rapporto con l'orizzonte verde, col paesaggio, questa è l'ipotesi invece per le scalomeci di Porta Romana, di avere una visione mia di questo tipo. Concludo con il manifesto sulla forestazione che è stato lanciato insieme alla FAO a Mantua e invitandovi, e qui cambio un po' abito, mi metto il vestito alla Presidente della Trennale di Milano, invitandovi tutti il 28 febbraio, inaugureremo col Presidente della Repubblica la ventiduesima esposizione internazionale, questa sapete che la Trennale è un pezzo del Bureau Internazionale d'Esposizione di Parigi, cioè è come negli Stati che compongono questa specie di Nazioni Unite, c'è anche la Trennale, l'unica istituzione internazionale, noi facciamo, la Trennale fa dal 1921 delle esposizioni internazionali, chiamando tutti i paesi del mondo, il tema quest'anno è Broken Nature, Broken Nature significa la natura logorata, sofferta, interrotta. Il tema di questa grande esposizione è con più di 25 padiglioni internazionali, ci sarà l'MIT per gli Stati Uniti, ci saranno le tre grandi università cinesi per la Cina, ci saranno centri di ricerca da tutto il mondo, è come si può restituire alla natura quello che è stato tolto. L'esposizione è curata da Paolo Antonelli e dal MoMA, quindi la curatela è tra Trennale e Museo Moderna di New York, lo presentiamo il 28, intriennale, sarà aperta sei mesi e lì si potranno vedere come anche le imprese, il mondo delle imprese soprattutto, cerca oggi di affrontare le questioni del cambiamento climatico con interventi e politiche fattuali, attive, da in qualche modo verificare e controllare. Grazie. Ci avevamo chiesto intanto perché la presentazione di Boeri avesse 2,5 giga di spazio e poi abbiamo capito perché, perché in effetti le suggestioni sono state molte. Io volevo partire intanto da uno degli aspetti che toccava lei che in parte ha già sviluppato, aspettiamo intanto un paio di sedi e visto che almeno un quarto d'ora vi annoieremo, vi annoierò. Bosco verticale, no, è chiaro che ogni volta che c'è un prototipo il costo del prototipo è superiore rispetto poi alle economie di scala successive, però volevo capire quanto è possibile che la sostenibilità diventi qualcosa di collettivo e non soltanto elitario, nel senso che noi, molti credo, abbiano magari visto i prezzi di Bosco verticale e il desiderio alto iniziale dopo aver visto i prezzi appunto in qualche modo si è ridotto. Avete già fatto vedere che però i progetti successivi sono dei valori ben diversi. Qual è la possibilità che si passi appunto da una sostenibilità per pochi a una sostenibilità corale, collettiva? Beh, ho detto, quello che stiamo facendo in parti diverse del mondo è di costruire degli edifici alti con una presenza, diciamo, di piantumazione molto molto importante, con costi molto bassi e accessibili. In Cina stiamo costruendo dei quartieri di dirizio sociale, ma anche appunto, facevo vedere il caso di Eindhoven, perché quello è un caso di un'area simile a quella di Porta Nuova, vicino al centro, è un'area della Siemens che stiamo ridisegnando, rigenerando in qualche modo e questa torre che vi ho mostrato è una torre che avrà degli affitti assolutamente da mercato, come dire, calmierato. Ecco, gli alberi sono dal 2012, no? Spiegava prima, l'edificio è accessibile da qualche anno successivo. Che cosa avete imparato da allora in termini anche di adattamento di queste piante, di convivenza tra le persone, di manutenzione? Ma moltissimo, naturalmente è una specie di prototipo, quindi è un esperimento monitorato anche abbiamo lavorato con l'IIT di Chicago fin dall'inizio, per esempio, su tutte le tematiche relative alla capacità di assorbimento di CO2, cioè dei sensori sugli alberi che ci permettono di registrare gli effetti sull'ambiente, ma abbiamo lavorato con degli etologi che hanno studiato l'edificazione dei volatili, sono più di 20 specie di volatili che edificano oggi, ma abbiamo studiato anche questioni più tecnologiche. Con Arup stiamo lavorando sul sistema dell'irrigazione, sulla gestione centralizzata di tutto il sistema dell'irrigazione e sulla gestione centralizzata di tutto il sistema botanico, che è una delle scelte che abbiamo capito essere importanti. Manfredi Catella, che è stato un po' la figura chiave, prima con AES e oggi con Coima di tutta questa operazione, e credo proprio rappresenta bene anche la continuità che l'impresa ci ha dato. Grazie alla presenza di Coima noi abbiamo sostanzialmente potuto fin dall'inizio seguire tutti gli aspetti tecnologici, ambientali, climatici in maniera integrata, e questo è stato molto importante. Ecco, nei progetti, lei in coda alla presentazione c'era questo nuovo, l'ultimo progetto di Milano, forse il più grande investimento urbanistico in Italia dei prossimi anni, questi sette scali da rigenerare. Ecco, lei tra l'altro è abbastanza strano per un architetto, avete proposto in quest'area un 10% di superficie edificabile e un 90% di verde, però c'è il trucco, nel senso che... No, non è un trucco, è una scelta voluta. 10% di superficie edificabile al suolo, ma 600.000 metri quadri di costruzione in termini, come dire, volumetrici, cioè l'idea è di costruire sui bordi, un'edilizia alta, mediamente alta significa tra i 50, gli 80, i 100 metri, non altissima, ma un'edilizia alta che abbia una grande permeabilità ai piani terra e che abbia un carattere di grande mixité negli usi, quindi con una variabilità delle funzioni che è la vera grande sfida dei prossimi anni. Noi dobbiamo uscire da alcuni irrigidimenti ancora normativi che impediscono oggi, per esempio, di avere spazi di lavoro e di studio per i giovani, spazi che siano di carattere collettivo e di carattere privato, cioè dobbiamo credo immaginare un nuovo modo di pensare al rapporto tra spazi di lavoro, spazi della residenza, spazi del tempo libero. Ecco, qui proprio di fianco a noi a pochi metri abbiamo tre palazzi, due terminati da poco, uno ancora in fase di costruzione, intanto volevo capire tra Pricewaterhouse, Allianz, e generali quale dei tre magari le sarebbe piaciuto progettare? Ma io ho grande rispetto, Zadide era una grande amica, non c'è più, conosco Isozaki, conosco Ribeskin, sono bravissimi. Ecco, qui però di alberi non se ne vede traccia, questi palazzi quindi tra qualche anno rappresenteranno diciamo la old economy dell'architettura, il vecchio? No, ma io non credo che sia così, io credo che quando parliamo di forestazione, l'ho cercato di mostrare prima, non parliamo solo di architetture che hanno il verde sulle facciate, parliamo di boschi periurbani, parliamo di piantumazioni dei tetti, parliamo di scuole che possano aumentare il numero delle superfici verdi alberate nei cortili, parliamo di viali, parliamo di situazioni di orti urbani, di community gardens, quindi sono un sistema di interventi, i boschi verticali sono una piccola contributo, per il momento sono più un'agopuntura, soprattutto nelle città dove c'è già moltissimo volume costruito. Ecco, lei lavora, abbiamo visto i suoi progetti in tutto il mondo, lavora ovviamente a Milano, a parte Milano che cosa si sta muovendo in Italia su progetti analoghi, cioè un ragionamento ampio sulla sostenibilità e progetti macro, non solo bosco verticale che se vogliamo è un singolo edificio, ma ad esempio questa cintura verde che si sta per realizzare a Milano? Non molto, non molto, ci sono alcuni progetti strategici, Torino si è mossa un po' di anni fa in modo intelligente, lo stesso ha fatto Bologna, ci sono città anche nel nord-est come Verona dove c'è un'attenzione a questi temi crescente, c'è stato negli ultimi anni un'attenzione maggiore al tema dell'agricoltura, ma ancora per esempio la grande questione della forestazione non viene letta come una questione che può avere una incidenza importante anche in termini di sviluppo produttivo ed economico. Noi siamo l'unico paese al mondo in cui le foreste sono cresciute, nonostante sia cresciuto il consumo di suolo, vorrei sottolineare questo aspetto, perché? Perché di fatto le città sono cresciute e continuano a crescere, anche se spesso senza ragione, perché abbiamo enormi zone vuote che non riusciamo rigenerare, ma le foreste crescono perché l'agricoltura viene abbandonata e perché i piccoli centri di presidio vengono abbandonati. Ma questo dice anche che il patrimonio forestale italiano è uno dei più straordinari del mondo e non l'abbiamo mai curato, abbiamo sempre pensato che potesse essere una sorta di presenza spontanea, ma quando invece il patrimonio forestale è un patrimonio che va gestito, curato ed è un fattore fondamentale di un'economia circolare enorme che potrebbe avere ricadute sul territorio in termini di impresa. Quindi questo solo per dire di come se solo utilizzassimo il ciclo del legno per alimentare la ricostruzione e la messa in sicurezza di enormi parti del nostro territorio a rischio sismico, avremmo fatto l'80% della sfida che ci in qualche modo guarda quando pensiamo al futuro dei sistemi a rischio sia sismico che idroiologico del nostro paese. A proposito di rigenerazione, perché il piano casa, il piano Italia, il piano di risistemazione del territorio ciclicamente e carsicamente ogni governo lo ripropone e poi restano progetti sulla carta con pochissimi fondi, però da qui forse potrebbe partire una ripresa più generale dell'economia. Tra l'altro, osservo, forse l'avrete già visto, i dati di dicembre della produzione industriale non sono una novità in questa fase, ma siamo in caro del 5,5% del dato peggiore dal 2012. Quindi chiudiamo il 2018 al ribasso e del resto le ultime stime dicono che stiamo rallentando. Lo sanno tutti, tranne il governo, ma comunque a marzo di Cetria lo scopriremo anche noi. L'edilizia però potrebbe essere un volano. Allora, io dico, sono stato anche alla stazione del Lance e ho portato dei dati che a me sembrano importanti da ricordare. Lo ricordo sempre, mi scuso, sono un po' noioso in questo, ma noi abbiamo circa 12 milioni di edifici, 12 milioni di edifici in Italia. Valutate che circa 8 di questi 12 milioni sono stati costruiti nel secondo dopoguerra, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 80. Ecco bene, di questi 8, 4 sono assolutamente obsoleti o perché sono stati pensati, pensati agli uffici negli anni 70 e 80 con logiche totalmente inapplicabili oggi o perché sono energivori al punto tale da, come dire, costituire un problema complessivo serio anche dal punto di vista del consumo e del bilancio economico o perché hanno un livello di degrado strutturale edilizio. E qui entriamo in un tema che conosciamo bene e di cui abbiamo visto effetti anche sulle infrastrutture, non solo gli edifici. Allora, il tema è che oggi noi non abbiamo una legge che favorisca la sostituzione di rizzi in Italia. Se uno di noi è proprietario di un edificio energivoro degradato e inutile, decide di abbatterlo e di costruire un edificio che consuma pochissimo, che ha le stesse volumetrie, che ha le facciate verdi, che risponde alle domande di un complesso variegato di società, di popolazione, di giovani, eccetera, deve ripagare i giornali di urbanizzazione. Non ho altro da aggiungere. Questo è un paese ignorante. Ecco, parliamo di questo, cioè di governance dello sviluppo. Lei è stato anche assessore alla cultura del Comune di Milano e quindi è entrato anche nella macchina amministrativa di una grande metropoli. Chi dovrebbe pilotare questo processo? Noi oggi abbiamo un percorso che va a portare competenze dallo Stato alle regioni. Se va avanti l'autonomia rafforzata chiesta da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Però anche dalla sua presentazione è chiaro un punto, cioè che sono poi le metropoli che devono in qualche modo investire, che devono rigenerarsi e che devono pianificare lo sviluppo. Però i soldi stanno altrove. Questo è un tema, diciamo, è una specie di progetto interrotto. Abbiamo 14 aree metropolitane, se non sbaglio, in teoria, ma nessuno ha mai cercato di capire quali erano i caratteri distintivi. Non sa bene che cosa siano. In realtà il tema è un tema molto interessante, perché adesso poi si potrebbe valutare se tutte e 14 rispondono alle caratteristiche. Però abbiamo 14 grandi polarità, sicuramente in Italia, che potrebbero... Io ho fatto questa esperienza nel piano di Tirana, ma il piano di Tirana è interessante, tra l'altro l'Albania è una regione italiana, dall'altra parte dell'Adriatico, con comunque un tasso di sviluppo importantissimo in questo momento, di dinamicità. La cosa interessante che è stata fatta in Albania è che è stato fatto una sorta di progetto simultaneo di tutte le città, seguito e coordinato dal governo, ma ha lasciato poi in mano le municipalità. Ora, se noi facessimo un progetto su tutte le 14 aree metropolitane, chiamando i centri di ricerca del mondo, a darci l'idea di quali sono i caratteri distintivi e le prospettive di sviluppo di ognuna di queste, l'Italia potrebbe cambiare. Quindi io credo che non si può mai pensare di fare meno di una regia, come dire, governativa, naturalmente, ma il protagonismo è oggi quello delle metropoli e delle città. Ecco, andiamo per un attimo in Cina, il suo ruolo di direttore di questo laboratorio dello sviluppo dell'Università di Shanghai. Quando lei va lì, abbiamo tutto da insegnare ai cinesi in termini di sostenibilità o c'è anche qualcosa che possiamo imparare da loro? Abbiamo moltissimo da imparare, soprattutto nella capacità di trasformare alcune, diciamo, issue nazionali in politiche pubbliche e in, come dire, anche strategie di impresa. Da questo punto di vista ovviamente c'è un sistema di relazioni molto diverso, con tradizioni diverse, con forme di gerarchia, di rapporto tra pubblico e privato, tra politica e sfera quando devono costruire le persone risposte, quindi diciamo, per certi aspetti, ci sono alcune pratiche per noi totalmente inapplicabili. Però, da altri punti di vista, la capacità di visione, la capacità di accettare sfide gigantesche, faccio un esempio che è un po' ridicolo, ma lo dico perché è divertente, noi stiamo lavorando anche sull'idea di una colonizzazione di Marte, come tra i diversi scenari che vengono studiati in modo molto serio oggi, devo dire anche dalla NASA, devo dire anche da centri di ricerca americani, sul risposto al cambiamento climatico c'è quella sostanzialmente di un esodo, quindi si ragiona già in modo molto serio su costruire superfici abitabili di grandi dimensioni su Marte. A questo nel senso che è una cosa su cui sono impegnati studi come quello di Norman Foster, oltre al nostro, in modo molto serio, con finanziamenti importanti, il che dice anche qual è il grado di allarme. Ecco, se le chiedono il progetto del Bosco Verticale su Marte la parcella sale però, perché le complessità sono, immagino, superiori. Sì, il problema è che riscuoterò la parcella fra un numero di anni eccessivo per poterne godere davvero. Senta, un'ultima curiosità, la sua casa ideale, l'ultimo piano del Bosco Verticale, una villetta bassa con un prato da mani. A me piacciono le case a corte, quindi nessuna delle due, mi piace vivere all'interno di uno spazio, di una corte, dentro, con uno spazio aperto, condiviso, un po' protetto, ma possibilmente anche aperto alla città. Grazie, grazie Stefano Guerra e a voi per averci seguito. Arrivederci.